Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial su Call of Duty Warzone.0 ragazzi per vedere come abilitare gli FPS, i ping, la latenza e tutto in alto a sinistra sullo schermo per vedere quanti FPS oppure quanti ping fate durante la partita molto semplice, andiamo un attimo su impostazioni tastiera e mouse scendiamo qua interfaccia scendiamo giù fino a scendere sotto telemetria questa qua mostrate più con un datore FPS eccolo qua latenza server perdita dati temperatura scheda video molto importante tempo scheda video poco ci interessa utilizzo VRAM tempo processore frequenza ed ecco fatto quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi lascia like iscriviti al canale se il video è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao